Iami Appoggio indietro anzi era al heartbeat Quindi goli c'era che sia Più va la Jurente che la lascia Golic con la pressing Golic c'è Ric Deve tornare indietro Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Parte da Jurente Quindi golic Non è il limite Si ferma Palla in avanti Su Carrasco Stato si sul centro-destra Entra in area Carrasco Prova a saltare golic Ancora Carrasco Un paio di finte Ancora golic Palla in area Carrasco Palla in area Carrasco schermato Gio Costa, ci va lo stesso Golic a sinistra Bebri, servito il numero 11 che punta Golic, se c'entra il tiro Golic